Siamo in Spindox dal 2010, quando arrivai qua c'erano giusto quattro scrivanie e due sole erano occupate da me e dalla collega Bruna, dal 2010 ad oggi abbiamo triplicato gli spazi e decuplicato il numero delle persone, però comunque ci si conosce tutti, l'ambiente è ancora non direi una boita, come si dice da queste parti, ma comunque ancora diciamo familiare. Qui sulla sede di Torino siamo divisi essenzialmente in due grandi gruppi, io li chiamo i residenti e i nomadi. I residenti sono quelli che seguono progetti ma tipicamente dalla loro scrivania. I nomadi vivono la gran parte della loro vita lavorativa presso la sede del cliente. Lavoro in Spindox da un anno e tre mesi, devo confessare che non ci passo tantissimo tempo perché in realtà lavoro spesso presso il cliente. Ogni volta che vengo qua per le riunioni o per altre attività vi è sempre questo clima che mi fa sentire coinvolta, anche se in realtà molti colleghi mi conosco la malapena perché appunto non gestisco progetti con loro e raramente mi trovo in questa sede. La sede Spindox di Torino, in tre parole, è familiare, prima di tutto, piccola ma nello stesso con un grande cuore, perché ci vogliamo tutti bene, sempre spinti verso l'innovazione e la condivisione delle idee. Ci scambiamo idee per avere sempre il risultato migliore.